Dopo che si sposano le donne sono infelici, gli uomini felici. Lui è amico di mio nonno. Chi è questo signore? È il mio dottore. E tu torni alle tre di notte con il tuo dottore? A te ti sembra che manca qualcosa? Non è possibile che ogni due mesi ricominci a costruire il scorrotto. Vincitore di due David di Donatello. Anch'io ti ho tradito. Tranquillo, lo capisco. In prima visione, settembre. Venerdì 21 e 20, Rai 3.